Un impianto agrivoltaico di 45 ettari equiparabile a 60 campi di calcio per oltre 28 megawatt di potenza è quanto si vorrebbe realizzare tra le vie Cannelle, Cereto, Morola e la strada provinciale per Monbaroccio. Come specificato nell'avviso pubblico, si tratta di un modello eco-sostenibile che produce contemporaneamente energia pulita e prodotti agricoli. Infatti, negli spazi liberi tra i pannelli fotovoltaici si possono coltivare cereali, erba medica, il carciofo tardivo di Pesaro, la cicerchia di Serra dei Conti, ma anche la fava di Fratterosa e il cecequercia di Appignano. Il progetto inoltre comprende un impianto di accumulo vicino alla centrale elettrica di Carrara e la connessione all'impianto avverrebbe mediante cavo interrato a media tensione che si estenderà lungo la viabilità pubblica sulla strada provinciale 80 per un percorso di circa 3,3 km fino alla Flaminia, all'altezza del bar Arcobaleno, e poi in antenna fino al nuovo impianto. Invece, l'allaccio alla centrale elettrica di Carrara avverrebbe mediante cavo interrato di alta tensione di circa 620 metri. La notizia è stata resa pubblica dall'ex assessore e coordinatore provinciale dell'Udc Davide Del Vecchio che ha fatto sobbalzare dalla sedia residenti e politici. Infatti, per Del Vecchio, il progetto depositato al Ministero della Transizione Ecologica da parte della società Tapper Renewables di Bellocchi, con sede legale a Palermo, sarebbe stato nascosto dalla giunta seri. Del Vecchio come e quando è venuto a conoscenza di questi documenti? Ma questo avviso era presente nel sito del Comune di Fano, quindi tra gli avvisi del sito del Comune di Fano e tra gli avvisi del sito della Regione Marche, quindi era visibile a tutti, non solo al sottoscritto. Amministratori comunali compresi, quindi? Amministratori comunali compresi, anzi, peggio ancora perché sia all'ufficio del Sindaco che ovviamente a quello della Regione è arrivata proprio la missiva al Sindaco, quindi direttamente agli uffici, quindi al di là che è stata pubblicata poi sull'albo operatorio è arrivata proprio agli uffici, alla Secretaria. Ci può spiegare esattamente di che impianto si tratta? Beh, intanto è un impianto fotovoltaico agrivoltaico, quindi praticamente sotto avranno la possibilità di continuare a coltivare nonostante sopra ci siano questi pannelli ed è ubicato tra Cartoceto e Fano. Il problema non è tanto quello, io non sono contrario a queste nuove fonti rinnovabili, ma il problema è la centrale che andranno a costruire proprio a Carrara, di nuovo sul nostro quartiere, di un ettaro, circa un ettaro e sarà un impianto di accumulo elettrochimico, quindi sono delle batterie in buona sostanza ma con tutti i trasformatori e gli inverter del caso, quindi non sappiamo quanto rumore farà, quanto impatto luminoso avrà e quindi cosa inciderà sulla svalutazione anche complessiva del nostro quartiere, che già è penalizzato dalla centrale che ormai c'è da tantissimi anni, ma dall'Adriatic Link, questo nuovo impianto che andranno a fare i prossimi anni, sul quale ormai questa è una decisione già sodata, ci sarà questo impianto di diversi ettari, alto più di 20 metri, sul quale stiamo lavorando per mitigare questo impatto. A questo andiamo ad aggiungere un'altra centrale di un ettaro, non è ammissibile sul nostro quartiere. Lei ha già chiesto un incontro al sindaco? Io adesso invierò anche delle PEC perché è bene che intervengano subito e facciano l'osservazione, perché le osservazioni scadono questa settimana, l'8 di ottobre, quindi tutti i cittadini, compreso il sottoscritto, faranno delle osservazioni facendo rilevare alcune anomalie nella presentazione del progetto. E la decisione finale però di chi sarà? Penso a degli enti pubblici che dovranno dare le autorizzazioni di fare queste opere all'interno delle zone agricole, perché noi parliamo di zone agricole, questo vorrei far ben capire, non è una zona industriale dove uno ubica un impianto di questo tipo, noi siamo in una zona appartamente a vocazione agricola, in un quartiere, all'interno di un quartiere con 2000 abitanti e ci andiamo a mettere di nuovo un carico sopra con una centrale di oltre un ettaro.